Oggi è martedì 17 ottobre e questa è la rassegna stampa di Fano TV come tutte le mattine buongiorno buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV allora cominciamo dal santo del giorno oggi è un santo che è vissuto nel 107 intorno all'anno 100 stiamo parlando di Sant'Ignazio di Antiochia che nel 107 venne sottoposto ad un crudele martirio all'interno del Colosseo pensate fu sbranato e divorato dalle belve questa è la descrizione brevissima perché poi di Sant'Ignazio insomma di Antiochia si potrebbe dire veramente tanto il sole è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 18.22 minuti il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo mercoledì 18 ancora vedete cielo sereno su tutta la regione nemmeno una nuvola domani e giovedì ancora cielo sereno o poco nuvoloso il tempo sarà stabile per le giornate di venerdì e sabato con peggioramento invece per le giornate di domenica e lunedì caos ambulanza in primo piano sul resto del Carlino di oggi tra inchieste penali scelte sbagliate del passato e cambiamenti in corsa gli autisti dei trasporti sanitari rischiano il posto Vallefoglia arrivano i rinforzi da domani altri sei carabinieri ucchielli soddisfatto ma i furti non si fermano la rabbia di un titolare di un autolavaggio e lavanderie tre assalti in 20 giorni e dice io non ce la faccio più a Sant'Agata Feltri a incendio sull'altare crolla l'abside vigile ferito si sospetta un piromane anche Salvini della Lega Nord attacca il prefetto di Pesero Pizzi una circolare da matti mentre la proposta per la fano romana che torna almeno la voglia torna di riproporre questa fano dei ceseri questa manifestazione ormai morta e sepolta da diversi anni schiavi al posto dei cavalli ma sarà parere personale un'impresa riportare la fano dei ceseri così come l'abbiamo conosciuta pronti i soldi per aprire la piscina di via Togliati a Pesero indirittura le caldaie poi la gara per il gestore vediamo la prima pagina del Corriere Adriatico sempre più briachi alla guida un giro di vite per droga e alcol trend in crescita nei dati della polizia stradale scuola e parchi nuove ispezioni soprattutto per fronteggiare il problema della droga a scuola e poi dalle Maurizius alla Fiera del Tartufo oltre 50.000 presenze con molti turisti stranieri per il bianco pregiato di Pergola come sono i prezzi però di questi tartufi? sono prezzi alti, altissimi, boom di prodotti preconfezionati e poi le pagine interne, quali sono le pagine interne? cominciamo da quella di Fano del Corriere Adriatico sulla lottizzazione di Gimarra, il gigante atteso in aula accordo con il curatore fallimentare il comune scongele il cantiere con 30.000 euro dunque il valore delle opere di 440.000 pari alla cifra per la cessione delle aree del nuovo edificio siglato da tempo una convenzione con la Polo Holding per l'acquisto di 1.000 metri quadrati dunque il gigante di Gimarra di questo quartiere potrebbe tornare a vivere o perlomeno si spera che venga completata quell'opera Zengarini, piloni a pezzi, ostacoli come transenne con tanto di foto notizia Rogito Ergo Sum ma sul teatro romano la firma slitta la permuta dell'area davanti al notaio arriverà non prima di aprile parliamo del teatro romano Fano dei Ceseri sul resto del carlino di Fano torneranno ma stavolta le bighe le trainano gli schiavi Fano Romano il comune ci crede l'idea di quella di far gareggiare le varie circoscrizioni un po' come al palio dei bracieri di Pesera ora ricordo tutti gli anni quando c'è il momento della corsa dei Ceseri della domenica subito gli animalisti preoccupati perché questi cavalli devono trainare le bighe eccetera eccetera ora che verranno trainate dagli schiavi gli animalisti staranno zitti chi si muoverà? nessuno gli schiavi possono fare qualunque cosa allora ecco come sarà il carro di Rossini al carnaval di Fano come è nata anche l'idea di questo carro sul compositore il maestro per Luigi Piccinetti si racconta per quanto riguarda le polemiche dice fanno parte del carnevale e certamente ogni bozzetto fa storia a sé e rappresenta un momento particolare tratto dall'ispirazione chiaramente dell'artista che poi lo realizza anche qui sul Corriere Adriatico c'è la questione della Fano Romana della Fano dei Cesari settimana romana ma non da Cesari noi giovani sogna un ritorno al passato la lista civica che supporta il sindaco ha illustrato un progetto per riacquistare consapevolezza collettiva Gimarra l'incompiuta si sblocca il centro civico è più vicino sempre dal carino giovedì in consiglio si vota la delibera per l'acquisizione e adesso i redditi dei politici quelli di Fano la Cecchietelli è al top ma c'è anche chi non arriva a 3.000 euro e chi dimentica chi si dimentica di dichiarare poi la rabbia di Michele contro i ladri tre furti con scasso in 20 giorni il titolare dell'autolavaggio di Padiglione dice io non ne posso più rubano il cambiamonete in totale 5.000 euro tra i danni e l'ammanco di soldi e poi tre sindaci determinati ad azzoppare la collega Pier Antoni stanotte il consiglio per tentare di sfiduciarla siamo ad Urbania ieri sera i primi cittadini riuniti per la discussione il clima non è certamente facile poi Fulvio Zappone che è il nuovo comandante dei carabinieri della stazione di Cagli la notizia da Montefelcino il cacciatore quello che è finito nel dirupo è ancora grave tra poco vedremo il Corriere Adriatico che invece parla di lieve miglioramento la pagina di Urbino Urbino è dietro le stelle dei neuroni ancora una volta i nostri ricercatori nel team della nuova scoperta si parla appunto di queste due stelle di neutroni che si sono fuse hanno emesso onde gravitazionali un lampo di luce sotto forma di raggi gamma responsabile della formazione di metalli pesanti come oro e platino tutto questo è stato osservato per la prima volta con il contributo fondamentale dell'interferometro italiano a Cascina e del gruppo Virgo composto appunto dagli studenti dagli scusati scienziati dell'università di Urbino è sempre da Urbino Corriere Adriatico sanità riforma dovuta ma non accompagnata area vasta 1 primari in fuga e cooperazione intervista a Mechelli di Urbino città ideale siamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico da Fossombrone quadreria Cesarini al via il restauro delle grazie il gruppo ceramico di Angelo Biancini dà il nome al cortile e poi da Pesaro invece le guardie zoofile oipa boom di domande in sei anni i volontari sono quadruplicati la polizia amica degli animali incrementa la squadra e il comune la premia con 1000 euro un freno ai ladri e ride in casa e ride in casa boom di finestre e porte blindate ancora furti in via Baracca a Pesaro con il colpo in pieno giorno a Borgo Santa Maria e malviventi sono stati messi in fuga sotto invece da Cantiano rubano a scuola la tv appena acquistata furtono il complesso che ospita la materna e la primaria appunto nel paese di Cantiano tanto successo e con poco tartufo perché ce n'è davvero poco turisti arrivano dalle Maurizius bianco pregiato di Pergola tre giorni record tra le 50.000 presenze anche molti stranieri lupo decapitato c'è un testimone sull'orribile morte di questo lupo adulto maschio trovato sabato mattina a Canneto a pochi metri dal centro abitato dove adesso indagano i carabinieri forestali di Serra Sant'Abbondio c'è un testimone che appunto avrebbe avrebbe visto avrebbe visto stiamo lavorando su questo caso ha detto il marisciallo Cerretini su una testimonianza di un'automobilista in transito alle 5 di sabato tre ore prima che Michele Fatica ritrovasse l'animale morto ed allertasse le forze dell'ordine e poi a San Costanzo petardi nelle case degli anziani e specchietti rotti baby vandali in azione i residenti di San Costanzo chiedono più controlli e Pelissia al ristorante il caso finisce la vita in diretta le telecamere della RAI hanno ricostruito la vicenda e ascoltato i protagonisti poi da terre rovedesche il palasport diventa realtà nel nome di Simo Abbarchi iniziati i lavori per la palestra finanziata dalla mamma del ragazzo deceduto in un incidente stradale a Senigallia invece aggressione sciocca al lavoro lei sviene il suo stalker arrestato dai carabinieri blizza in un ristorante il tunisino afferra per un braccio la senigallese di 37 anni e le strappa il cellulare sotto sempre da Senigallia auto contro scooter grave un 59enne l'incidente a Cesanella trasportata a Torrette con l'eliambulanza e chiudiamo abbiamo aperto la rassegna stampa con il santo del giorno Sant'Ignazio di Antiochia che è stato messo dentro il Colosseo sbranato dalle belve eccetera per che cosa? per testimoniare la sua fede per farci arrivare fino ad oggi 2017 tutto quello che sappiamo della religione Cristo e quant'altro in realtà poi dopo 2017 anni ci ritroviamo a dover chiedere scusa agli studenti perché e questo lo dice il rettore il rettore che chiede scusa perché come si legge sul resto del Carlino una professoressa una docente di fonetica alla facoltà di lingue e lettere dell'università di Macerata a un certo punto qualche giorno fa alle 17.30 siccome era una giornata un po' particolare dove tutta l'Italia pregava ha pregato comunque chi ci crede per la pace eccetera eccetera ha detto il rosario e insomma ha fermato la lezione ha chiesto agli spridenti di alzarsi in piedi per un ave Maria è scoppiato il finimondo con tanto di scuse lettere del rettore interrogazione al ministro insomma chi più ne ha più ne metta per un ave Maria e un gloria e insomma il rettore chiede scusa noi chiediamo perdono ci vediamo stasera e pace bene a tutti grazie